Lo devi riscoprire assolutamente, dai non scherziamo Fare una classifica di tutti gli album degli Oasis è la cosa più difficile che io abbia fatto Naturalmente si può essere anche in disaccordo, è tutto molto soggettivo, il gusto musicale è soggettivo Senza dimenticare anche l'aspetto oggettivo e dell'importanza che alcuni album hanno dato alla musica rispetto che ad altri Io sono Rambleo, divulgo musica, andiamo a fare dal peggiore al migliore degli Oasis Alla posizione numero 7 inserisco Don't Believe The Truth È un album che ascolto veramente poco, questo degli Oasis, è probabilmente un album che ha pieno, non ho capito È un album che suona anche in maniera molto diversa rispetto ai dischi precedenti degli Oasis In una maniera anche molto meno rock, se così possiamo definirla Sembra un disco molto più acustico rispetto agli altri A parte anche le grandi tracce che ci sono all'interno di questo album, ovvero Let There Be Love L'ultima traccia che è una delle ballate più belle degli Oasis O Laila, O The Importance Of Begin Idol che è un'altra traccia clamorosa Le altre veramente non riesco a trovare, diciamo, dentro la mia testa, a collocare dentro la mia testa come canzone clamorosa degli Oasis Si somigliano un po' tutte Machi Fingers, che è la seconda traccia, doveva essere il singolo di questo album Fu cambiato tutto dalla casa discografica e fecero Laila È un pezzo che è un continuo rullante e timpano sulla batteria Bam 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 È quattro minuti così E l'ho reputata anche un pelo monotona C'è da segnalare anche che all'interno di questo album ci ha suonato Zack Starkey Che ovvero è il figlio di Ringo Starr Che poi ha iniziato anche negli album successivi Nell'album successivo ci ha messo le mani Quest'album mi spiace ma non lo ascolto quasi mai Ma non perché non sia bello Addirittura questo fu uno degli album più venduti degli Oasis dopo Be Here Now Infatti entrò in classifica subito e fece un'esplosione di vendite L'unico problema è che non rimase molto in classifica e di fatti crollo Alla posizione numero 6 inserisco Dig Out Your Soul È l'album della definitiva rottura degli Oasis Sto parlando appunto dell'ultimo album del 2008 Però ci sono anche alcuni aspetti che voglio farti notare di questo album Stava diventando un qualcosa di diverso il progetto Oasis Basta partire anche dal logo Il logo Oasis come ben puoi vedere Te lo faccio vedere qua Stava iniziando a cambiare Anche le sonorità che sentiamo all'interno di quest'album Sono ben diverse rispetto alle sonorità precedenti di tutti gli album degli Oasis Se l'album precedente aveva quel sentore molto acustico Ma che ricordava i vecchi album quasi ad emularli Qui sentiamo un album che aveva la sua base nel groove Difatti Noel disse che quest'album è stato ragionato in acustico Successivamente è stato pensato a come groove di batteria e basso Potevano rendere l'album diverso anche rispetto ai precedenti Difatti possiamo vedere soprattutto secondo me l'evoluzione di quest'album Provi negli album solisti di Noel Ma parliamo delle tracce che ci sono all'interno di quest'album Tracce come Falling Down per me è una delle più belle canzoni Tutto su Tom e Timpani Oppure c'è una canzone molto sottovalutata Soldier On Una canzone dal sound molto americano Oppure parlando appunto di Liam Che oramai era diventato uno scrittore affermato Anche all'interno della band I'm out of time Un pezzo clamoroso Struggente È un disco che ricorda anche nella copertina Ricorda anche un po' i Beatles Ma loro come sempre in ogni album Se solo pensate ai primi tre album Le prime tre copertine Sono palesemente i Beatles E qui ritorna quell'idea Difatti c'è una canzone che mi ricorda Tomorrow Never Knows di Revolver E sto parlando di To Beware There's Life Dove c'è questo basso che ricorda appunto Tomorrow Never Knows Chissà che cosa potevano essere gli Oasis È un grande album Ti propongo di riascoltarlo con più attenzione Posizione numero 5 Heat and Chemistry Pubblicato nel 2002 Anche questo qui è un album Che a me piace Piace tanto Ma se devo metterlo in una classifica Di sicuro arrivano altri Ma che cosa mi piace tanto di questi album? Proprio la nostalgia Nel riascoltare anche tracce Che mi ricordano anche I primi tre album degli Oasis E questo album mi ricorda anche molto What's Story Morning Glory Specialmente in tre tracce che si trovano proprio al centro E sto parlando di Stop Crying Your Heart Out Songbird Little by Little Pezzi clamorosi Ricordiamo che Songbird È una canzone scritta da Liam È giusto ricordarlo perché delle volte Liam viene visto come Colui che non sa scrivere canzoni Invece Liam ha sempre provato a scrivere canzoni Poi la maggior parte naturalmente Erano quelle scritte da Noel All'interno di quest'album Fanno l'ingresso due nuovi componenti Sto parlando di Bell al basso Ed Archer alla chitarra Che vediamo anche nella copertina Un pello sfocata Ma quello che mi piace proprio all'interno di quest'album È stato mischiare Quello che potevano essere gli Oasis Perché sappiamo benissimo Che dal quarto album in poi Gli Oasis sono tanto cambiati A quello che poteva essere la nostalgia Ma con il giusto mix Non c'è una canzone che esce più di un'altra Sono tutti allo stesso livello Solo che certe volte Il songwriting naturalmente di questi tre pezzi Che ti ho elencato prima Supera per distacco anche le altre canzoni Ti voglio nominare una traccia Ovvero la numero 8 Una canzone dove la solo di chitarra L'ha suonato Johnny Mer Ovvero il chitarrista degli Smiths Sembrava che Noel Che veniva chiamato The Chief Aveva bisogno proprio di altre persone Di altri artisti Che lo aiutassero proprio nella scrittura Era arrivato ad un momento Veramente di saturazione artistica Alcune canzoni sono state scritte da Archer e da Bell E infatti Noel dichiara questo album Uno dei migliori album Proprio perché sentiva proprio la necessità Noel Non ce la faceva più a fare pezzi sempre da solo Il pezzo che ti voglio consigliare Che delle volte viene anche dimenticato È la traccia numero 10 È sempre una traccia di Liam Perché tu sai benissimo Che io amo Liam Gallagher Se devo scegliere tra i due Il mio Gallagher diciamo preferito È Liam Per il tipo di approccio che ha Per il tipo di approccio di essere rockstar È sempre stato etichettato come il più pazzo dei due Ma a me non mi interessa questa dicitura Ma a me interessa l'approccio che ha sul palco L'emozione che ti dà Liam quando canta Credo che non capiti più Attualmente non trovo un altro cantante Che mi dà quel sintomo di appartenenza ad un genere Appartenenza ad una canzone C'è un mio amico che dice appunto Che Liam fa casino stando fermo sul palco Ed è una dote che non è da tutti Born on a different cloud Che è la decima traccia che ti consiglio Che è una piccola chicca all'interno di quest'album Alla posizione numero 4 inserisco Standing on the shoulder of giants In molti odiano questo album degli Oasis Proprio perché è arrivato Dopo i più bei tre dischi mai fatti di una band rock Ma tutto stava cambiando negli Oasis Già ce ne accorgiamo dalla copertina Una copertina dove ci sono 18 scatti fotografici di New York Dove poi sono stati sovrapposti E difatti vediamo la parte di sinistra Che è più notturna E la parte di destra dove c'è più sole Sta a far vedere proprio il cambiamento della band Secondo me Questa copertina sembra banale Ma è proprio la raffigurazione di quello che erano diventati gli Oasis Una band che stava totalmente cambiando È una band anche con un approccio più rock Più ragionato dei pezzi Anche il logo qui se fai caso sta a far vedere proprio il cambiamento che gli Oasis stavano avendo È da dire anche che due componenti fondamentali degli Oasis lasciarono la band Sto parlando di appunto del mito anche di Bonhead La seconda chitarra degli Oasis E tutti i pezzi sono stati scritti da Noel Noel non ce la faceva più a scrivere canzoni Era saturo Aveva bisogno di una mano Infatti questo album è stato anche un pelo forzato Però devo dire che come approccio di sound a me piace tanto Anche i dischi successivi che arrivano Secondo me hanno sempre qualcosa che ritorna poi nei primi dischi Questo album invece è a sé stante Si sente che stava cambiando qualcosa E qui dentro lo sentiamo bene Parliamo di tracce importanti all'interno di quest'album Gas Panic è una canzone scritta da Noel Dedicata, chiede se possiamo nominarla così Ai suoi attacchi di panico Oppure la prima canzone di Liam Little James Una canzone fantastica da riscoprire A molti non piace questa canzone ma è veramente una perla Ripeto sarà perché io sono innamorato di Liam Fucking in the Bushes La traccia che apre questo album Che tra l'altro è la traccia che apre i concerti di Liam Questa potenza sulla batteria, sul basso Con Lady Doubt, altra traccia clamorosa Roll it over anche Questa potenza diciamo Beatlesiana Ma in chiave molto più moderna degli anni 2000 Se la band cambia approccio ad un genere È solamente da star lì ad ascoltare e capire che cosa la band ti sta proponendo Una band non può sempre fare la stessa musica E di fatto in questo album c'è del cambiamento che è positivo Che è servito poi agli Oasis per andare avanti con altri dischi Cioè ma che disco è? Lo devi riscoprire assolutamente Dai non scherziamo Prima di arrivare ai primi tre album Bisogna fare speciale menzione a Masterplan Che non è altro che una delle più belle raccolte Che una band musicale abbia mai fatto Ma sono semplicemente i beside dei singoli Che anticipavano gli album in uscita Canzoni che non sono mai entrate in un album Ma che sono entrate in questa super raccolta Noelle ha sempre detto che una band Se avesse fatto solamente i beside che hanno fatto gli Oasis Poteva diventare una band leggendaria Ed è proprio così Masterplan è un capolavoro Talk Tonight! Ma come si fa a scrivere una canzone così? Scritta da Noel tra l'altro Stay Young The Masterplan stessa Listen Up Una canzone che a me personalmente ha aiutato tanto E quando ne avevo bisogno è sempre arrivata il mio soccorso Perché tutti l'abbiamo avuti e tutti abbiamo quella canzone Che ci aiuta nei momenti difficili È un grande album questo qua Alla posizione numero 3 insedisco Be Here Now Peccato! Questo album secondo me poteva essere ancora di più di quello che Be Here Now È stato per la discografia degli Oasis Ma semplicemente perché si sentivano già i malumori Vomitati anche all'interno di quest'album Solo la copertina Pensate che la copertina doveva essere in notturna Invece gli Oasis erano completamente fatti Dalla mattina alla sera E non riuscirono ad arrivare alla sera con una copertina ben fatta E scelsero quella della mattina Che non era altro che una prova o un test di quello che poteva diventare poi la copertina Tracce pazzesche all'interno di questo album Iniziare un album con You Know What I Mean Ve lo ricordate il videoclip con l'elicottero che arrivava? Era tutto tanto all'interno di quest'album La Ladness War era arrivata a degli apici pazzeschi nel 97 con Be Here Now E lo si sente bene Tracce come Don't Go Away hanno scritto la storia degli Oasis Oppure la stessa Be Here Now La stessa Stand By Me Magic Pie Ma che pezzi sono? L'unica nota negativa all'interno di quest'album sono i loop I vari loop di chitarra continui Loop di batteria Pezzi lunghi anche Sette minuti e mezzo dove veramente delle volte fai difficoltà Ma la potenza sonora che c'è all'interno di questo disco Già iniziava a scostarsi da quelli che erano i due precedenti E mi piace veramente tanto ascoltarlo Tra la posizione 2 e la posizione numero 1 Puoi fare cambio a piacere in base al tuo stato d'animo In base al tuo umore Ma io inserisco alla posizione numero 2 What's Story Morning Glory Perché ho inserito What's Story Morning Glory alla posizione numero 2? Te lo dirò con il primo album che ho inserito Ma questo è l'album più bello che sia mai stato fatto Io infatti lo metto nella mia top 5 degli album più belli all time Ma come si fa a fare un album così Pieno di singoli Inschippabile Aspetta che ti nomino le tracce Iniziare con Hello, Roll With It, Storia, Wonderwall, Don't Look Back In Anger, Hey Now, So My Say, Cast No Shadow, She's Electric, Morning Glory, Champagne Supernova Ogni traccia di questo album ha fatto la storia Continuano a portarla ancora in tour Sia Liam che Noel Ma Liam veramente sono andato al concerto All'Aideis Festival Dove a fine concerto ha cantato Champagne Supernova È veramente qualcosa che ti catapulta in un altro mondo Le persone facevano parte di un movimento vero e proprio Sentivano quella musica che faceva parte di loro stessi Hanno creato un vero movimento Hanno creato comunità con quest'album E infatti anche tutto ciò che è arrivato poi successivamente agli Oasis E quello che sono ancora oggi Liam e Noel Lo devono a What's the Story, Morning Glory Un capolavoro eterno È anche banale certe volte Parlare di album così leggendari Così importanti Perché sicuramente conosci bene Hai ascoltato Sai di cosa stiamo parlando Ma che album e disco pubblicato nel 95 Che sanciva anche Diciamo tra virgolette la fine del grunge Anche se era già comunque in via di estinzione Di là poi c'è stato il Britpop Che ha invaso tutto il mondo Alla posizione numero 1 inserisco Definitely Maybe Ma che album è? Capolavoro immortale E adesso ti spiego il perché si trova la posizione numero 1 Prima di tutto dalla copertina Dentro questa copertina ci sono così tanti oggetti Tipo anche come in Be Here Now Tutti oggetti riconducibili alla loro vita Già in una copertina Una band ti sta esprimendo Non politicamente quello che vuole dare O socialmente quello che ti vuole dare No Qui dentro ci sono loro Come loro intendivano la loro musica E quello che c'è Quello che viene detto all'interno di questo disco La canzone più importante secondo me Non solo degli anni 90 Ma della storia della musica Live Forever Ma di cosa parliamo? Ma che pezzo è Live Forever? Una delle canzoni più importanti Tracce clamorose dentro quest'album Rock and Roll Star Tu inizi il primo album d'esordio Con Rock and Roll Star E già appunto Fai capire dove vuoi arrivare Columbia Altro pezzo clamoroso Sigarette e alcol Slide Away Ma che pezzi sono veramente? Se dobbiamo fare però Il paragone naturalmente che c'è Con What's the Story Morning Glory Naturalmente vince 10 a 0 What's the Story Morning Glory Ma What's the Story Morning Glory è diventato anche molto più mainstream Le canzoni si ascoltano molto più facilmente Quest'album invece ha dato il là a qualcosa che è nato e non è più finito In quanti ancora adesso nel 2024 Cercano di emulare quello che è stato fatto all'interno di quest'album Perché non parliamo di un solo album Parliamo di tutto ciò che c'è stato intorno alla band oasis Al mondo del Britpop Al mondo della musica Tutti quanti volevano ascoltare gli oasis Era successo un casino nel 94 Album che tra l'altro ha venduto più copie di qualsiasi altro album Il primo giorno di uscita per un album d'esordio Poi dopo superato dal primo album degli Arctic Monkeys Ma una cosa del genere non era successa a nessuno Quindi capite l'importanza culturale di Definitely Maybe Vorrei sapere la tua Scrivimi qui sotto la tua classifica degli album degli oasis E adesso vadate ad ascoltarmi lì forever Ciao 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 ciao